Diamo il benvenuto a Mattia Caldara che dal prossimo anno accademico sarà uno studente atleta, un'eccellenza dello sport che ha scelto la LUIS per il progetto Dual Carriere, un progetto veramente innovativo che dà la possibilità a tutti gli atleti di altissimo livello di continuare a praticare attività nello stesso momento, continuare a studiare. Mi ha parlato il mio procuratore di questa opportunità che mi è stata offerta dalla Sport Academy e quindi ho colto subito questa occasione perché ho avuto sempre la tentazione di andare avanti una volta essermi diplomato alle superiori, ma non ho mai avuto lo stimolo giusto e credo che la LUIS mi abbia offerto appunto un'opportunità per completarmi a livello umano e a livello formativo, quindi sono molto felice di essere qui oggi. Per il mio ruolo in campo, essere un difensore, credo che la testa sia l'arma migliore, quindi credo che stare sui libri molto tempo mi aiuti a rimanere concentrato e questo lo posso trasmettere anche in campo, oltre quindi a un allenamento fisico che faccio durante gli allenamenti, credo che un allenamento in più mentale sia fondamentale per me, avendo un ruolo come il difensore che la testa è la prima cosa. Mattia Caldara, esempio positivo di sport e di umiltà. Alla LUIS lo sport è la chiave per realizzare se stessi in un modo più completo e Caldara che diventa studente LUIS è un esempio per tutti i ragazzi del nostro paese di come si può formare uno studente anche se fa sport ad un livello agonistico così importante. Noi siamo orgogliosi di aggiungere a Giorgio Avola, Filippo Tortu, Chiara Mormile, Angelica Impronta, Gregorio Paltrinieri, anche Mattia Caldara. Filippo Tortu, Chiara Mormile, Angelica Impronta, Gregorio Paltrinieri, anche Mattia Caldara.